Un altro grande ambito di interesse è quello dell'analisi di sensitività legata alla quantificazione dell'incertezza, la cosiddetta uncertainty quantification. È un argomento di crescente interesse in tutti gli ambiti delle scienze applicate nella medicina e nell'industria, soprattutto nell'ingegneria, che di fatto permette non solo di simulare, ma di estrarre un'analisi approfondita del problema che di fatto permette di operare il tutto nello scenario peggiore, cosicché la simulazione e la soluzione del problema possono tenere conto di moltissimi eventi, spesso sconosciuti anche a chi si occupa della formulazione del modello matematico.